va a sbagliare però il rookie mentre che volo Ari si è passati al 27 14 15 a 2 di parzella aperto palla recuperata e schiacciata di Cantu Woodard non sblocca la saracinesca e può ancora volare avuto in precedenza intanto va a sbagliare da tre punti l'acqua San Bernardo il possesso di nuovo per la Vanoli che inchioda Williams uno contro uno su Johnson ancora aveva toccato al massimo il più 23 la Vanoli proprio in apertura di ripresa adesso deve provare a tornare e lo fa DJ Williams attacca poi inchioda questo passebutto ha preso la convocazione a febbraio ma non aveva potuto giocare a causa di un problema la caviglia basket del futuro recupero di Holmes che ferma il contropiede di